buongiorno a tutti ben arrivati a questo webinar che grande azotecnici propone insieme all'azienda lembo farm diamo seguito a quello che il 3 di giugno era stato l'avvio di questa nuova proposta di close up presso l'azienda lembo farm per fare questo io mi trovo esattamente di fronte alle vacche che tra 15 20 giorni partoriranno e che quindi si stanno preparando alla nuova lattazione come vedete qui siamo nell'area che l'azienda predisposto per accudire al meglio quella che è una fase molto critica la fase del close up un'area che da 3-4 anni è praticamente stabile non sono state fatte all'interno nessuna innovazione radicale in termini di struttura presenza di cucette così via però vedete che il benessere animale è stato ricercato al fine di riuscire a gestire la mandria nella migliore delle condizioni lo spazio disponibile c'è l'illuminazione anche e quindi un'area che è assolutamente predisposta in maniera corretta per quanto riguarda la fase di close up buongiorno a tutti mauro comino sono responsabile titolare dell'azienda lembo farm a distanza di un anno ci ritroviamo qua a parlare di transizione parliamo di transizione perché all'interno della nostra azienda abbiamo instaurato con granda un percorso innovativo per gestire le vacche in transizione questo percorso innovativo parte innanzitutto per il benessere delle nostre vacche e degli animali una riduzione dei problemi sulle vacche in transizione una riduzione di mano d'opera e semplificare la gestione sulle vacche in transizione per portare ovviamente dei benefici le vacche oramai da anni sono divise in due fasi di asciutta la fase di close up e la prima fase di asciutta e poi c'è una fase di post parto dove vengono monitorate per una settimana sono in un'area più dedicata per i primi giorni post parto dove hanno un maggior spazio lì possiamo intervenire se c'è un problema più tempestivamente più comodi a distanza di un anno oggi vogliamo portare la nostra esperienza del cation rem della nuova strategia alimentare instaurata nel nostro allevamento questa strategia ci ha portato dei grossi vantaggi perché le vacche non vengono più catturate non vengono più stressate perché abbiamo dato il massimo della libertà ai nostri animali allo spostamento del close up applichiamo i tag scr per monitorare l'ingestione e lo stato di salute di ogni singola vacca dopodiché c'è il momento del parto la vacca partorisce viene munta con lo strato al vitello e viene messa nella fase di post parto dove viene tenuta per i primi sette giorni in questa fase di post parto la vacca non viene monitorata giornalmente ma andiamo solo a cercare l'animale tramite pc tramite smartphone ormai con le comodità della tecnologia ci arriva l'allarme e allora noi siamo mirati sull'animale che ha il problema nel post parto prima quando avevamo la strategia di cad si facevano molti interventi perché si faceva prelievi delle urine per non usare pH e quant'altro con questa strategia noi abbiamo eliminato questo lavoro ulteriore che comunque ha un costo perché ci un operatore almeno una volta a settimana deve far urinare le vacche fare prelievi per vedere se tutto funziona al di là di questo poi nella fase post parto si monitoravano più gli animali nei primi sette giorni dove andavano a monitorare la temperatura vedere se l'animale mangiava e quant'altro con il sistema cation ram abbiamo eliminato questo discorso perché andiamo a sequestrare il potassio all'interno degli alimenti nella razione dando una maggiore sicurezza sugli animali perché ci vanno eliminare le variabilità le variabilità che ci sono all'interno degli alimenti che quotidianamente possono variare mentre cation ram è un prodotto dove lavora a un range di errore più largo nella fase post parto andiamo solo individuare questi animali perché avendo meno problematiche sulla vacca dopo il parto in automatico la vacca in post parto se non dà un allarme noi non non la monitoriamo più a differenza di prima è molto impattante comunque un operatore che quotidianamente un giorno sì un giorno no si dedicava un'ora al post parto per fare vedere gli scoli vaginali per vedere se è splacentato per vedere se la vacca mangia e invece con il sistema elettronico oltre avere il beneficio che vai solo a cercare l'animale che ha il problema ti anticipa anche la vacca che è un problema la vacca la prima settimana dopo il parto la passa in quest'area qua sono primipare e pluripare tutte insieme dopodiché dopo la prima settimana l'animale viene spostato all'interno dell'alta produzione se sono primipare con le primipare secondipare col gruppo delle secondipare terzipare ed oltre hanno un suo gruppo anche dedicato questo percorso di lavoro è stato il nostro inizio di percorso di lavoro che insieme a granda abbiamo monitorato fatto campioni a livello di alimentazione a livello anche di sangue sugli animali perché andiamo solo a misurare il calcio totale alle 24 36 ore dopo il parto per vedere se tutto funziona monitorando tutti questi dati siamo arrivati a distanza di un anno di lavoro col prodotto cation rem insieme a granda a capire quali sono stati i benefici di questo lavoro i vantaggi che abbiamo avuto i vantaggi a livello lavorativo sono stati impattanti perché comunque tra virgolette dimenticarsi degli animali in pre post parto non è una cosa da poco una cosa da poco perché comunque un animale che al momento del parto o nel post parto ha un problema non è un animale che ha un problema e in un attimo si è risolto un'animale che magari si ripercuota in un problema di giorni che poi sono i giorni che decidono la lattazione dell'animale abbiamo visto negli anni passati con le strategie diverse come quando c'è un animale con un problema questo problema non è l'immediato ma il problema diventa dopo perché compromette tutta la lattazione dell'animale per quanto riguarda la produzione di latte l'incidenza di mastiti l'incidenza di zoppie e l'incidenza della fertilità questo percorso ha dato il grosso beneficio di oltre avere più latte alla quarta settimana più latte all'ottava settimana un cr alla prima fia costante un pr automaticamente che si alza una mandria più fresca perché gli animali si ingravidano e comunque ripartoriscono nei tempi meno animali in fondo la curva di sopravvivenza che dobbiamo riformare il grosso vantaggio è stato la variabilità la variabilità delle vacche del latte alla quarta settimana dell'ottava settimana del cr e di tutti questi dati non dovendogli fare alcun tipo di trattamento l'animale vuol dire che sta bene parte a fare latte che è quello che per noi conta delle nostre vacche fare latte di qualità e sano e dopodiché diventa automatico che tutte queste cose danno una costanza nelle curve dei grafici in quant'altro perché abbiamo un latte alla quarta settimana che raggiunge sulle pluripare anche 50 litri abbiamo cresciuto questo latte non perché abbiamo cambiato qualcosa a livello alimentare sulle vacche in lattazione è rimasto tutto uguale la razione è uguale i gruppi sono stati uguali da anni il tenore energetico il tenore proteico all'interno delle razioni sono sempre stati uguali ma riducendo la variabilità abbiamo avuto questo beneficio di più latte perché abbiamo più vacche o quasi possiamo dire oltre il 90% delle vacche che dopo il parto non hanno problema e partono bene la tecnologia è quella che poi fondamentalmente ci ha dato la mano maggiore perché per permetterci di ridurre il lavoro c'è poi tutta una serie di elaborazioni di dati, dei ricomp, di tm per quanto riguarda l'alimentazione delle vacche una serie di incrocio di dati tra i vari programmi che alla fine riescono a farti capire realmente qual è stato il beneficio del lavoro oltre poi a registrare le patologie che si sono avute nell'arco dell'anno e poi andare a fare dei report sull'incidenza delle patologie, sull'incidenza dei costi delle patologie così che possiamo guardare avanti per i prossimi investimenti da fare all'interno dell'azienda perché se non si hanno certe tecnologie non possiamo capire noi fra 6, 7, 8 mesi, un anno quante vacche andremo a mungere e qual è la nostra potenzialità di guadagno e la potenzialità di allevo che abbiamo dietro alle nostre spalle Buongiorno a tutti, sono Luciano Comino, titolare dell'azienda Lembo Farmi insieme a mio fratello Mauro e mia cucina Ilaria In questo webinar portiamo l'esperienza della nostra azienda e tutto il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni nello specifico sulla transizione Io mi occupo in particolare di alimentazione, quindi formulazione di razioni in quanto sono nutrizionista dal 2009 ad oggi inoltre mi occupo della parte di produzione e conservazione degli alimenti e autoprodotti in azienda Inizialmente adottavamo un'unica strategia nutrizionale per tutto il gruppo di asciutta quindi il gruppo di asciutta veniva alimentato con la stessa razione dalla messina in asciutta fino al giorno del parto Questa tipologia di gestione ha portato sicuramente dei benefici ma comunque nel tempo ci siamo accorti che anche nell'ottica di un'evoluzione produttiva di un aumento delle performance e anche grazie a un miglioramento della tecnologia che abbiamo adottato negli anni, quindi grazie ai collari, grazie alla registrazione sempre più specifica e dettagliata dei dati Questo ci ha permesso nel tempo di arrivare a capire che era arrivata l'ora di provare a fare qualcosa in più per poter migliorare e risolvere ancora qualche problema che comunque installa quindi abbiamo deciso di fare il doppio gruppo per poter fare un'alimentazione base sul gruppo far off, quindi la prima parte dell'asciutta in cui non veniva fatta nessun tipo di integrazione agnonica mentre sul gruppo close up si dava un'integrazione agnonica più importante rispetto a prima andando ad acidificare la razione in modo tale di avere un D-CAD negativo, quindi meno 6, meno 7 e cercare in questa maniera di poter prevenire il più possibile le dismetabolie Questa strategia ci ha permesso di migliorare sicuramente l'aspetto gestionale ma anche migliorare quello che è la prevenzione e diminuire l'incidente delle patologie grazie anche alla disponibilità di Granda che grazie al laboratorio permetteva di prendere i campi di sangue e mandare in analisi e vedere se effettivamente il calcio a livello ematico aveva una soglia tale da poter farci capire che non c'era manco la presenza di ipocalcemia subclinica Nel corso del tempo c'era una varia abilità La scelta è stata quella di passare a una nuova strategia La nuova strategia è stata quella di avvalersi dei prodotti nuovi su tutti le aziolite, nel caso Granda Stake, il catio RM che sono dei prodotti che evitano tutto quello che c'è a monte quindi tutto il grosso lavoro di andare a selezionare i prodotti quindi andare negli appezzamenti a cercare le culture che biologicamente contengono meno potassio andare a ricercare quei terreni che hanno meno potassio e quindi coltivare quelle culture su quei terreni dopodiché prima dell'apertura andare a fare dei campionamenti e analizzare il potassio su quegli alimenti che poi saranno destinati all'asciutto controllare se tutto questo poi è stato fatto con successo e quindi capire tramite il pH dell'urina e il calcematico se effettivamente la ciclicazione è presente ma soprattutto è costante nel tempo questo prodotto è in grado di sequestrare il potassio quindi a noi non interessa più preoccuparsi tanto le mie vacche stanno ingerendo, hanno una relazione con l'1,8, 1,2% di potassio quindi non va bene, avrò dei problemi questo prodotto è in grado di sequestrarlo quindi non renderlo disponibile alle vacche questo tipo di volte ti possono far stare più tranquillo evitare tantissime implicazioni pratiche e tantissime analisi e quindi correre e rincorrere un problema o comunque essere sempre in modo sistematico con la paura che il potassio scappa quindi c'è una variabilità e quindi automaticamente mi trovo poi dei problemi postpartum Cosa abbiamo fatto in questi tre anni insieme all'azienda Lembo Farm? Sostanzialmente abbiamo lavorato cercando di gestire a 360 gradi tutti i fattori che incidono all'interno della transizione con l'obiettivo di creare una mandria assolutamente in salute insieme a Luciano che ha accudito la parte nutrizionale che è uno dei due proprietari dell'azienda insieme a Mauro che invece ha accudito un po' più in maniera specifica la parte gestionale manageriale di questo gruppo abbiamo condiviso tutti i dati che ne sono derivati e al fine di non lasciarli come dei dati dissociati al di sopra di un tavolo Grand Azotecnici ha allestito ormai da quasi tre anni una struttura che abbiamo denominato Nutrilab serve a raccogliere tutti i dati emessi da un'azienda in modo tale che questi dati una volta analizzati una volta messi insieme in maniera analitica possano far sì che venga creato il miglior prodotto possibile per aiutare la mandria in fase di transizione a questo scopo Granda ci ha sicuramente messo un impegno di un certo tipo perché la gestione della transizione noi la concepiamo come una fase assolutamente dinamica con una grande richiesta di utilità dei prodotti quindi la necessità di creare soluzioni che siano dedicate alla mandria che stiamo osservando e come ripeto per far questo è necessario mettere insieme tutte le informazioni che arrivano dall'azienda tramite il personale che ci lavora il Nutrilab ha svolto questa azione di raccordo con la componente nutrizionale e la componente gestionale ma ha svolto anche l'azione di controllo è necessario sempre identificare in fase di preparto quali sono i rischi metabolici a cui la mandria è soggetta ma è necessario in fase di postparto avere sempre il coraggio e la voglia di controllare i risultati quindi noi abbiamo sempre insieme a Mauro e Luciano fatto tutto un insieme di controlli che sono stati archiviati con dei dati in termini di allarme di salute, allarmi di distress e soprattutto di controlli metabolici nello specifico riservati alla determinazione della calcemia ionizzata l'eliminazione di questa patologia nello specifico tramite la soluzione Cation REM che l'azienda ha adottato per tutto l'anno 2020 ci ha permesso di ridurre notevolmente tutti gli allarmi salute di stress della mandria che prima erano presenti in una quota moderata ma che allo stato attuale si sono ridotti ulteriormente avendo le stesse vacche in stalla, avendo la stessa capienza di allevamento grazie a una transizione molto efficace possiamo farvi vedere come sono aumentati il numero dei parti all'interno dell'allevamento negli ultimi 4 anni siamo passati da 360 parti all'anno a 440 parti nel 2020 questo perché si sono accorciati i doni di latazione, le vacche si ingravidano molto prima e entra in gioco un meccanismo dove le vacche continuamente partoriscono e si ha una costanza in tutto l'anno di parti mensili sempre costanti non si ha più il fattore delle stagionalità dove c'è l'estate, dove hai problemi di fertilità oltre al discorso che l'estate fa caldo ma anche che l'incidenza delle patologie con il caldo era più accentuata riducendo questi problemi anche in estate abbiamo risolto i problemi della fertilità quindi avendo molti più parti avendo molti più parti, avendo vacche fresche potete vedere come anche la produzione del latte è salita ma non di poco, una produzione di latte corretta a un 3,5 di grasso per fare un paragone molto valido negli ultimi anni abbiamo visto come siamo passati, se prendiamo solo gli ultimi 4 anni abbiamo fatto dai 35 litri di latte nel 2017 a una media che passa ai 40 litri per tutto il 2020 questo è stato il beneficio di tutto il nostro lavoro Mentre per quanto riguarda l'incidenza delle patologie postparto come vi spiegavo precedentemente grazie al lavoro di strategia nutrizionale fatto e di cambio passando da una strategia agnonica a una strategia con la zeolite vediamo come l'incidenza delle patologie sia diminuita in questo grafico vedete come sono rappresentate negli ultimi 4 anni il numero di patologie suddiviso per ritenzione di placenta, metrite e ipocalcemia vediamo come il 2020 tendenzialmente è sempre stato un po' in diminuzione ma soprattutto il 2020 per tutte e tre le categorie di patologie si è differenziato in quanto siamo riusciti a diminuire drasticamente l'incidenza ma il grafico più emblematico a mio avviso è quello che va ad esprimere le patologie in percentuale in funzione del numero di parti perché come abbiamo visto prima il numero di parti è aumentato quindi devi andare a esprimere per avere un confronto più eco e più corretto le patologie in funzione del numero di parti le patologie postparto vediamo anche qui come sia la ritenzione di placenta sia la metrite e sia l'ipocalcemia nel 2020 si sono ridotte drasticamente ma siamo arrivati a questa incidenza così bassa grazie soprattutto oltre a una riduzione generale ma soprattutto a una riduzione della variabilità perché precedentemente noi passavamo dei mesi con un'incidenza magari del 20-15-20% e dei mesi con un'incidenza del 2, del 3 o dello 0 questa dimostrazione del fatto come vi ho detto prima che non avevamo perfettamente il controllo dell'ingestione, del bilanciamento dei minerali e nel suo complesso della razione della fase nasciutta mentre adesso con il 2020, con questa nuova strategia oltre a avere meno problemi come vediamo qua abbiamo un controllo più costante quindi tutti i mesi per noi sono uguali indipendentemente dall'estate, dal tempo, da tanti altri fattori ma soprattutto tutti i mesi dell'anno per noi la fase di transizione occupa lo stesso lavoro cioè il minimo possibile il nostro lavoro si vaga solo più sul monitorare guardare i numeri e andare pochissimo in stalla e stressare il meno possibile le vacche e quindi di cose in questione stressarci molto meno noi avere più tempo libero, essere più sereni, più tranquilli il futuro dell'azienda Lembo Pharma credo che sia quello di sedersi intorno al tavolo con una certa tranquillità valutando dei dati che sono storici il mio nonno mi ricordo che mi diceva sempre senza passato non hai futuro l'azienda Lembo Pharma oggi può permettersi di avere un passato solido che ha dato molte soddisfazioni di sedersi intorno al tavolo e di valutare eventualmente tutte quelle soluzioni che saranno gestionali, manageriali, di nuove strutture, di nuovi investimenti per fare ulteriormente progredire e migliorare la mandria attorno a questo tavolo la componente Grandazotecnici ci sarà a Grandazotecnici verrà chiesto uno sforzo in termini di innovazione di prodotto di supporto all'azienda in maniera specifica e molto identificativa e quindi io concludo con un augurio e un buon futuro all'azienda Lembo Pharma e un ringraziamento a tutti voi Grazie a tutti